Buonasera, buonasera a voi. Ebbene sì, stasera voglio ancora rimanere su Matteo Renzi, che è stato un po' il protagonista dei miei video negli ultimi giorni. Questo personaggio che non si capisce bene come un uomo politico che ormai è legato ad avere un consenso minimo nel paese, il 2-3%, quindi davvero insignificante, invece sembra davvero rappresentare una voce fondamentale, una voce molto importante non solo nel nostro paese ma anche a livello internazionale. Ecco, questo è un qualcosa di abbastanza misterioso per quanto riguarda Matteo Renzi. E tra l'altro, voglio dire, i suoi amici di avventura dell'opposizione lo tengono in considerazione e pensano che, insomma, bisogna fare sempre i conti con Matteo Renzi. Uno che, tra l'altro, molto spesso, perché non è la prima volta, continua a raccontarle davvero grosse e a dire delle cose che da un lato vengono smentite e dall'altra, ad esempio, l'abbiamo già ricordato, a fare delle promesse che poi non mantiene, come quando disse qualche anno fa che se avesse perso il referendum si sarebbe ritirato. Nulla di tutto questo. Tralasciamo, scusate, poi i suoi viaggi in Arabia Saudita, in altri paesi del Medio Oriente dove riceve dei cachet molto molto profumati, no? E non si capisce bene a pro di che cosa lui rappresenti, voglio dire, anche il nostro paese. Ora voglio farvi ascoltare una piccola clip perché, secondo me, dice una cosa incredibile. Ascoltiamola e poi la commentiamo. Il 7 ottobre è accaduto quello che è accaduto perché Hamas ha capito perfettamente che era questione di giorni, di settimane, l'accordo tra Arabia Saudita e Israele. E se si fosse arrivati a quell'accordo non vi sarebbe stato più spazio per nessuno. E però di queste cose con chi parliamo se quando si va in tv ci continuano a parlare soltanto di minutaglie, di inezie. Il 7 ottobre è... Cioè, adesso francamente voglio dire, io poi come sempre sarò molto curioso di vedere voi cosa ne pensate e vi garantisco che io leggo tutti i vostri messaggi, anche perché voglio dire quando va bene sono dai 50 ai 100 e quindi mi prendo il tempo per leggerli tutti e magari poi domani vorrò anche un po' commentarli. Perché magari sono io, no? Che capisco male, interpreto male, non ci arriva, no? Può darsi. E quindi è importante ascoltare anche agli altri. Ora, quello che è successo il 7 di ottobre con Hamas che ha fatto praticamente un attentato. C'era in corso un rave party di ragazzi ebrei e ci fu questo terribile attentato, io lo paragono un po' a quello che è successo al Bataclan, ma anche a quell'attentato, questo almeno anche nel numero dei morti, che è successo non molte settimane fa al teatro a Mosca dove ci furono oltre 200 morti. Cioè, adesso a voi sembra possibile che un attentato, per carità, io non voglio minimizzare la portata del gesto dell'attentato, terribile, no? Però nella storia conosciamo episodi di tutta un'altra portata, anche a livello mondiale. Basta pensare all'11 settembre, no? Le torri gemelle, giusto per intenderci. Ma a voi sembra possibile che Hamas, che è un'organizzazione palestinese, con quel tipo di attentato abbia potuto, potuto far sì che un eventuale accordo che portasse la pace in Palestina tra Israele, Arabia Saudita, è saltato per aria appunto per questo attentato. Cioè, a me sembra veramente una follia. Cioè, io credo che se realmente sul tavolo delle trattative ci fosse stato, ci fosse stato una possibilità di accordo, anche perché, apro una parentesi, tra tutte le cose che ha fatto di terribile Netanyahu e le cose che ha detto, però mai io ho sentito dire che la rabbia saudita sia implicata in quanto è successo e in qualche modo abbia una convivenza con Hamas. Forse mi sbaglio, mi correggerete voi. E quindi non si capisce come, come una cosa, un attentato di questo tipo, abbia potuto far saltare il tavolo delle trattative. Capite? Io non vorrei che il solito Matteo Renzi voglia dare del fumo negli occhi agli italiani, in questo caso, che hanno ben presente quello che sta accadendo in Palestina. E in un numero molto più ampio, sempre di più, lo si vede anche dalle manifestazioni, stanno criticando fortemente Netanyahu ed Israele e si sono messi contro quello che sta facendo Israele. Tanto che nel mondo, non solo in paesi che addirittura hanno denunciato Israele all'Aia per genocidio, come in Sudafrica, l'Australia ed altri paesi, ma anche in Italia, in Germania e in Francia aumentano le proteste nei confronti di Israele. Non vorrei che, come al solito, anche lui lì avesse degli interessi in Israele e quindi, ancora una volta, in questo caso, lui sia il portavoce di interessi internazionali, in questo caso, ovviamente, israeliani. Perché, secondo il mio modo di pensare, e ripeto, posso anche sbagliare, io lo trovo veramente inverosimile, che è un attentato gravissimo, quello che volete, ma non è stato certo l'11 settembre, non è stata la ferrovia a Madrid di qualche anno fa, non è stato altri tipi di attentati, che quel attentato abbia potuto far saltare in aria la trattativa che doveva portare alla pace. Io credo che Israele non ha mai avuto, questa è la mia personale opinione, l'idea di concedere nulla alla Palestina e che non si trattava assolutamente di trovare un accordo di pace o, ancora di più, di riconoscere in qualche modo i territori ai palestinesi. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.